in casa di modo tale che quando si sarà un po più vecchi guardando quelle foto ci si potrà commuovere potrà scendere una lacrimuccia in un racconto che inizierà con ma ti ricordi quella foto quando puntini puntini ci sarà tempo però di raccontarsi le storie dinanzi a un focolare oggi è tempo di crearla quella storia dal family club buonasera gentili amici di at league collegati all'ascolto da giacomo credo e stefano ledda che sarei aspettata rigori allora per matteo si zia mancino per capitare di tutto per matteo si zia che prova la conclusione corte mamma mia mamma mia cosa ha salvato credo edoardo camba almeno credo occhio adesso a raffaele carta mamma mia scarano prima prima pinna formazione nero rosa battuto con pallone per raffaele il vantaggio del quarto inete del numero 88 è stato lasciato colpevolmente libero di colpire mancino chirurgico quello che forse carlos bub se ne è accordo cambia la prova invece direttamente in porta forse qui egoista carlos bub è qui occhio alla palla che termina sul fondo mamma mia se bloccato ancora capito scusami stefano capito ha cercato da quattro c'è bravo mancino sul fondo c'è stata deviazione si zia mancino la palla passa scarano e bau capito attenzione limite e forse qui si innamora riesce scarano a dirgli no occhio perché questa cosa potrebbe anche giocare la parte del giocatore il brucia nel frattempo michele carta scarano scarano ha fatto anche qui qualcosa di allucinante 1-1 a riposo primo tempo piuttosto pino tecnico occhio ai mischioni in aradino e cambia il borussia in vantaggio quarto 1 borussia 2 la pennellata di alessandro rocca per il compagno con la maglia numero 69 ti avevo detto cambia con che vinto un po' in dagli ora si perde il pallone occhio a raffaele carta pressato a due anzi no adesso raffaele carta con una spaventato un po' più di testa alto scusami da quest'altra parte campo destro sul fondo di pochissima testa anche il 33 ma te si sia intanto punta la porta non ci vorrete è appareggiato il quarto united ma l'unico credo errore di scarano di tutta la perdita quarto 2 borussia 2 quando io il periodo occhio adesso a questa palla lunga di iana tutto però nasce da una palla banalmente persa dal borussia ancora un pallone perso matteo si sia limita l'area ce l'ho per raffaele corte la rete il quarto united l'ha ribaltato in pochissimi istanti quarto 3 borussia 2 è pazzesco però due grande la gara è spettacolo rocca dalla bandierina camba salva tutto sulla linea di porta un giocatore rosa nero non è finita ancora camba va camba camba destra sul fondo di niente rocca scodella dentro la testa da parte di diana che è andato altissimo ed è finita è triplete quarto united il quarto united andrà a roma tanto di cappello tuttavia al borussia cagliari